Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Covduty Black Ops 2 Vi dico subito che vorrei iniziare questa nuova serie perchè l'ho acquistato proprio per questa serie, se devo essere sincero Praticamente vorrei fare anch'io un po' interpretare in mio modo una sfida che hanno già fatto diversi youtuber Del quale non citerò perchè li conoscete meglio di me Sostanzialmente parole brevi visto che non ho molto tempo Ad ogni kill che subirò, ad ogni morte tradotto Dovrò ingerire uno, e solo uno Di questi cubetti di ghiaccio che non so se vedete Comunque, guarda vi alzerò Ho paura che cada sulla tastiera Quindi, fidati ragazzi, è un cubetto di ghiaccio È freddo, ma vai ghiaccio Quindi, insomma, non sarà bello Spero di non doverne mangiare troppe e non morire troppe volte Di fare una partita di quelle bestiali Siamo a livello 49 perchè sono pro Quando uno è pro è livello 49, c'è scritto proprio Se sei a livello pro, se sei a livello pro, beh certo Stand off, la mappa che mi piace anche, dove si muore tante volte Allora che volevo Avvio tra 7 secondi Italiano c'è Babilosh Parteneo Sarà che fosse anche lo Zingano, non sono sicuro Ma lui non è italiano Saranno, si comincia a sciogliere il ghiaccio Quindi cerchiamo di accelerare un attimino Nei tipi di partita vetranno poi bisogna fare Ah, nella pausa Ecco, per ogni volta se vetranno io muoio 50 volte Perchè non so dove andare a pescare la mappina A bordare, vabbè Torniamo alla sfida Alla sfida Torniamo alla sfida Ci stiamo mettendo un quarto d'ora a caricare la partita Non che è più scommotivo Non ci sa perchè, aspettiamo Aspettiamo Tanto il ghiaccio si scioglie e basta Non ci si è freddo Ah, vabbè, ancora è bello più impanto Non carica, ragazzi Ok, è andata Beh, hanno già fatto 10 kill Però non è finita la partita, ragazzi Non ho mangiato neanche uno Mi sembra che mi slogga Mi sembra che si parla sulla connessione Perchè non Cioè ci sta mettendo tantissimo Madonna Aspettiamo Forse lo taglio sto pezzo, vediamo Finchè non lo farò non so nulla È andata più che aspettare È andata più Da uno piettino al ghiaccio Di tanto Uno, due, tre, quattro E' andata Ok Sta partendo ora Che lentezza 6-0 già sono Vabbè, chi se ne frega Attenzione ragazzi Me la campererò come uno schifoso Ve lo dico, eh Ho paura Yes Scoppio nevo ragazzi Che bello pro Vai, vai, vai Eccoli Prima kill Prima kill Indice di cubetto di ghiaccia E siamo a uno Andiamo avanti Ehm 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 Maccina mortale in azione Cato io Cato io Cato io Ehm Ehm Ok faccio sapere il gioco grande no ho ancora l'altro in bocca però sono giù fidati che sono giù ho testo monica e sono giù cazzo c'è il cecchino sono muoio non bambino risate poi cazzo non vale questa non vale questa non vale mi sta laggando tutto mi sa bloccato a sua cazzo ho la cazzo aperto ma quella non vale ragazzi questa non vale neanche perchè devo ancora rientrare bene in partita io è vero da mangiare il video ora ci sono se mi ammettasero ora va bene perchè poi in partita quindi si sta e al suo oh sono neanche pari oh bocca troia con il suo bravo ma la moscia non sai il ghiaccio che boh non ha più ghiaccio in bocca cazzo 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 ci scioglie anche il ghiaccio ovviamente 4 e 5 si ricorda sicuramente non mi capite povera povera ah non sono proprio oh madonna che schifoso stiamo perdendo lo scontro dai un po' più piccolo che questo che è schifo un secondo vai oddio che freddo no oddio fanno male i denti bravo perchè lo faccio che culo io sei con te dove cazzo siete no 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 mi sono auto ucciso questo non conta questo non conta qui non conta cazzo 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 lo conservo questo due partite oggi inedita puntata speciale solo per voi ne ho mangiati ne avanzano sei sei sette se questo qua dovessi spaccarlo ce n'è uno piuttosto grande mi sa che situazione critica epico 6.000 punti il gioco leggero su standoff che mi ci trovo abbastanza bene mi ci trovo abbastanza bene ragazzi un secondo stacco torno tra un secondo giuro vado a riprendere un po' di ghiaccio che sta per bene ragazzi sono tornato ho preso altri 4-5 cubetti di ghiaccio spero di non utilizzare seconda partita su standoff perchè la prima è cominciata che era già partita quindi non mi sembra giusto aspettiamo che cominci la partita e speriamo di non doverne mangiare troppi ecco avvio tra 8 secondi se nessuno esce speriamo ecco sinceramente non mi voglio aspettare ancora ancora tanto ok ragazzi si comincia speriamo che non mi faccia attendere troppo il caricamento qui della mappa perchè prima ci ha messo abbastanza eh ok è già partita perfetto ragazzi perfetto anzi ho fatto uno score positivo nella scorsa partita 12-8 mi pare e si blocca in attesa delle tex c'è qualcosa che non va oggi su quello beauty eh ok vai mi seguimi ma ragazzi ne posso mangiare fino a 7 eh secondo se sono più di 7 oh mi dispiace ma non ne ho più più scusate l'ho scambiato per dei nemici giustamente visto la posta si visto la posta direi che mi impegno di più quando ci sono delle sfide mi sembra che dovrei far giocare solo così anche quando non registro così a caso sono un cretino ci penso io qua ah vabbè bravo devo ricaricare e attendere bravo bravo su su paura via via siiii 2-0 nooo prima morte ci sta ragazzi ovviamente avevo già fatto 2 kill comunque un pochettino più grande se no qua è brutta 1 1 1 fai le bagnate immagino che non si capisca nulla quando dai baffi questa roba hai baffi in ogni mirino attenzione non vale questo stavo prendendo il ghiaccio 2 2 vai questa vale se dovessi morire eh muoio un pochettino non vado a casa perché non è una cosa normale colpo fulminante un'altra uccisione ecco ho perso conto boh cattroia belli freddi eh però mi sto un po' dissetando un pochettino non basta la campeonale uya pochettino due in bocca due in bocca insieme ghiaccio eh vai oddio mh mh via veloce uh segniamo un po' di un cazzo io non faccio un cazzo 100 se ho fatto una chiusura di positivo non fa mai la pancia ma va è messo a 19 cubetti di ghiaccio fa questo bu è già grande nooo è dietro manca poco ragazzi vai nooo è caduto il pezzettino di ghiaccio ecco mani bagnate vai forza bambino vi lo 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 è il lo 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 quale il mio cazzo cambia cazzo cambia c'è qualcuno qua porca puttana tua mamma cambio caricatore lo l'ho cazzo cazzo masticato tutto apposto dopo mi sto stozzando però va beh manca poco che finisce stiamo yes nooo da dietro E' acqua praticamente Allora faccio Si vede quanti sono neanche io lo so Boh Saranno che boh Gnove boh Vai Mai più eh Finito Grazie a cielo se l'ho dato signora Sto morendo Positivo 2 2 positivo Gnove Sto soffocando intanto Buono 8 tecche Non male Vabbè siamo sempre se cazzate Guarda ragazzi L'acqua Si vede benissimo L'acqua che ha lasciato il ghiaccio E' di uno schifo che Fa proprio pietà Quest'acqua Cioè deve esserci giù La madonna Lasciamo stare Ok abbandonare la lobby Perché devo dirvi due parolina Allora ragazzi Il video è fatto Mai più Vedi Mai più A meno che questo video Non raggiunga un bel numero di mi piace Non è qualcosa Vedo che la cosa interessa Io mi sono divertito Anche se ho un mal di pancia Pazzesco Ovviamente Come se abbiamo avuto 10 litri di acqua insieme Quindi Diciamo Quello che mi faccia proprio bene Questo però Fa lo stesso Ormai l'ho fatto E' andata Quindi ragazzi Vi saluto Vi ringrazio per aver visto questo video Salgo il cubettino di ghiaccio L'ho mangiati Non lo so Numero spositato Avevo giù 50 Quindi sono finite C'è solamente l'acqua Quindi giù giù tutti Anzi Forse ora la berrò Non lo so E' una tentazione Però non lo so Quindi ragazzi Vi saluto ancora Mi video lasciare un bel mi piace Per questo video è tutto Mi saluto Ciao ciao ragazzi Al prossimo video